se invece proviene da una zona del nord sicuramente è bellissimo e gentile e ogni abitante della magica terra la ama per il suo sguardo dolce e pieno d'amore e la sua bellezza i bambini dormono mi auguro che anche tua madre dorma non è che non la ammiri per le sue convinzioni la sua presenza diventa pesante stavo pensando di mettermi in contatto con tua sorella si sbaglio nell'ultima lettera ci ha scritto che nella regione del dacota si può vivere bene che aberdeen si è sviluppata così in fretta da essere diventata la chicago del nord west forse stai esagerando eppure molte persone si sono trasferite laggiù con pochi soldi in poco tempo hanno fatto fortuna guarda il marito di tua sorella è vero ma loro sono lì da diversi anni ma lo sai che io odio lavorare in un negozio